Allora, allora mio caro Marco, partiamo dalla foto che abbiamo scelto questa mattina, ve lo ricorderete questo ragazzo Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21 anni che circa un anno fa era il 6 settembre del 2020, moriva a Colleferro massacrato di botte per aver cercato di aiutare un amico in difficoltà. Un passaggio violentissimo, brutale, durato circa 30 secondi, con colpi pensate così forti che Willy non aveva più un organo interno che fosse integro. In carcere per questi fatti sono finite quattro persone, tra questi i due fratelli Marco e Gabriele Bianchi. La madre dei due bianchi, intercettata, si sarebbe lamentata pronunciando alcune frasi, lamentandosi appunto del riflesso mediatico che questa vicenda aveva avuto, come se la morte di un ragazzo potesse essere valutata in funzione del suo status sociale o del suo censo. Ecco, se questa frase fosse davvero stata detta sarebbe davvero indifendibile, anche se non pronunciata pubblicamente, proprio perché ad un anno di distanza da quello che è successo la memoria di questa giovane vita spezzata non merita di subire un nuovo oltraggio.